Ciao a tutti, sono Sergio Battistini e sono il responsabile tecnico di tutti i percorsi della Val di Sole, dei campionati del mondo e di tutti gli eventi che organizziamo qua. Il percorso di un mondiale di mountain bike nasce da una storia nel nostro caso perché sono moltissimi anni che organizziamo questo tipo di gare. È un percorso storico ma in continua evoluzione e si lavora sempre con una vision cercando di arrivare a un obiettivo. Il nostro obiettivo in questi anni è quello di regalare un'esperienza unica agli spettatori, al pubblico, sia dal vivo qua sul posto ma anche a coloro che lo seguono da casa. Quindi un grande lavoro di taglia e cuci all'interno del nostro percorso per renderlo maggiormente visibile, per renderlo fruibile e allo stesso tempo non dobbiamo perdere la tecnicità e gli aspetti che interessano i rider per riuscire a fare un percorso che sia all'altezza di una Coppa del Mondo e in questo caso di un campionato del mondo. Il percorso cross-country e campionati del mondo quest'anno ha delle novità. Ci sono una sezione completamente nuova sulla parte sinistra del percorso, completamente aperta all'interno del bosco, natural, completamente natural, che va un po' a esaltare le caratteristiche del terreno, del territorio, della morfologia della Val di Sole. Quindi una sezione di questo tipo qua sul lato sinistro, poi abbiamo realizzato due sezioni di trail nuove dall'incirca 200 metri che sono qua dietro di me, una in stile un pochino più flow e un po' più fun e l'altra un po' più tecnica con degli steps, rocce, step up e tutti quegli ingredienti che riescono a dare un grande spettacolo al pubblico e fanno divertire i rider oltre che a metterli alla prova tecnicamente. Il lavoro di progettazione e di ideazione del percorso non ha mai una fine perché finisci l'evento dell'anno prima e già stavi pensando alle modifiche che vorrei fare all'anno successivo quindi è una cosa che è come un piccolo germoglio che vedi crescere e ogni anno si aggiunge qualcosa quindi l'obiettivo è quello di riuscire sempre a fare qualcosa di innovativo, di dare degli ingredienti che possano dare spettacolo e far divertire tutti dal primo all'ultimo. è un lavoro veramente lungo e tuttora ci sono delle sezioni, delle parti che insomma sono ancora lì nel crogiolo dei pensieri e qualche metro in più o meno di dislivello qualche sezione, qualche passaggio è ancora lì che fino a quando non viene fettucciato e delimitato l'intero percorso fino all'ultimo non si sa bene e dipende un po' dagli ultimi istanti di tracciatura. Ma allora per progettare un percorso di questo tipo qua ovviamente bisogna conoscere bene il territorio e poi viverlo e ovviamente abbiamo degli strumenti che sono dei rilevatori gps ad alta precisione e sappiamo che dobbiamo arrivare al risultato che vogliamo ottenere quindi nel nostro caso sono 4 km e non oltre mantenere un circuito compatto che sia visibile dalla zona arrivi, dalle tribune, dagli spalti, molto tv friendly e pubblico friendly e poi il dislivello andiamo da un minimo dei 170 metri fino ai 220-220 metri a giro quindi ovviamente lo strumento è il nostro amico e poi da lì si fa un lavoro sempre a computer di taglia e cuci e mettendo insieme appunto i tratti che si hanno in mente di inserire o di togliere e poi si fa il giro finale per definire la traccia ultima e da lì poi parte l'effettiva preparazione ma ovviamente non è che prendi dei paletti e prepari un percorso c'è il lavoro di squadre che si mettono all'opera per disbosco, per la preparazione del fondo per andare a modellare un po' quei passaggi naturali per renderli appunto raidabili e che siano interessanti da vedere perché ovviamente non è tutto completamente fattibile bisogna aggiungere sassi, bisogna fare dei passaggi sulle radici e quindi c'è da mettere insieme un po' di ingredienti e questo sono mesi prima, sono già due mesi che la nostra squadra lavora qua nel bosco per aprire questa sezione nuova vicino al fiume, molto bella e in questo caso abbiamo lasciato completamente le strade bianche per il passaggio del pubblico e tutto il resto è puro spettacolo da vedere ed è molto facile per chi viene qua a spostarsi da una parte di tracciato all'altra in brevi tratti, si vedono un sacco di passaggi e insomma chi ha provato la vera emozione di essere qui e vedere questa gara dal vivo è un ricordo che ti porti sempre e è qualcosa veramente di unico Sì, ovviamente noi siamo orientati al tecnico, al biker ma vogliamo anche dare show come gli atleti, i team vogliono dare show quindi dobbiamo tenere insieme un sacco di ingredienti che fanno questo evento spettacolare e quindi dobbiamo veramente mettere insieme dei pezzi e ognuno all'interno dell'organizzazione fa il suo al meglio per rendere questo evento unico e c'è un team tutto l'anno che ci lavora a mille con anima e corpo per far sì che il risultato sia come sempre all'altezza delle aspettative Abbiamo uno staff tutto l'anno di sette persone che lavora a questo evento in più poi mano a mano che il periodo si avvicina e si fa più caldo un po' la data dell'evento si uniscono altre persone ma il grande valore che noi abbiamo qua in Val di Sole è il supporto di tutti i volontari sia della Val di Sole ma moltissimi che vengono anche da fuori regione per vivere proprio in prima persona a contatto con gli atleti questa gara qua e quindi fai conto che abbiamo 250-300 volontari durante la settimana di evento e uno staff organizzativo anche in collaborazione con l'azienda del turismo della Val di Sole che si mette a piena disposizione e quindi è tutto fila, ognuno fa la sua parte è un sistema, è un'organizzazione messa al sistema che funziona veramente bene e quindi siamo veramente contenti di come siamo riusciti a impostare questo evento che poi anche grazie a questo lavoro guarda lontano fino al 2026 perché grazie a queste prospettive riusciamo a fare anche degli interventi e degli investimenti che durano nel tempo cambia sicuramente diciamo che l'asset dell'evento essendo ormai rodati è abbastanza simile come avrete visto è il programma gara che è fittissimo perché abbiamo 6 maglie ridate da consegnare quindi 6 diversi percorsi e quindi è un incastro di scheduling e di programma incredibile ogni mezz'ora succede qualcosa e quindi tutti dobbiamo essere pronti col focus e con l'attenzione sul programma di gara perché veramente abbiamo un sacco di eventi abbiamo un sacco di percorsi e quindi è questo poi gli atleti vengono rappresentati appunto dalle loro nazioni abbiamo visto che comunque c'è una crescita anche a livello mondiale dei team e della presenza all'interno di questo evento e c'è da dire che rispetto a una coppa del mondo il mondiale è una tappa in tutto il mondo quindi ti senti un pochino più con i riflettori accesi perché ovviamente e come sempre non si può sbagliare bisogna essere tutti sul pezzo, fare il meglio e poi i risultati ci danno sempre delle belle soddisfazioni Nel futuro del percorso di cross country vedo sempre un percorso sempre più visibile con sempre più ingredienti quindi con l'aggiunta di sezioni sempre più tecniche e come vedrete quest'anno c'è tutta la parte destra del percorso che rimane un pochino più filante per fare in modo che gli atleti siano concentrati di più nella zona visibile qua nella Val di Sole Arena dove ci sono le big letters di Val di Sole e quindi non possono anche dirti di bene cosa ci sarà nel futuro ce lo dice il mercato, ce lo dicono le bici come si evolvono ce lo dicono gli atleti in base ai feedback, alle aspettative quindi è una cosa in evoluzione bisogna essere aggiornati, guardare quello che succede e cercare di dare anche un po' uno spirito di innovazione ma abbiamo visto che negli ultimi periodi con le bici come se sono l'evoluzione che hanno avuto i riders riusciamo a spingerli a livello veramente alto e quindi questo è quello che dobbiamo fare cercare sempre di tenere alto livello e garantire spettacolarità insomma il gioco è fatto ma il percorso, la Black Snake ha un nome che ha un suo storico è diventato quasi un brand grazie alla sua iconicità, alle sue caratteristiche che io penso che siano uniche nel suo genere e come percorso per le pendenze, per le caratteristiche del terreno per la morfologia e per quello che negli anni è stato realizzato all'interno della Black Snake è difficile? Sì, perché come sappiamo mantenere un percorso natural che si mantenga negli anni non è facile quindi diciamo che abbiamo avuto negli ultimi 5 anni la possibilità di cambiare diverse sezioni e quindi ovviamente hai sempre un terreno abbastanza fresh sotto la bike che ti dà quella novità e qualcosa di nuovo ogni anno adesso siamo riusciti a trovare una linea abbastanza definitiva facendo degli interventi però senza stravolgere il percorso cercando di fare in modo che sia raidabile dall'inizio alla fine dell'evento ma sappiamo benissimo che con tutti i passaggi dei biker poi il percorso, la Black Snake evolve cambia la linea che hai visto la volta prima il giro prima, il giro dopo è cambiata quindi è un po' anche questo lo spirito della Black Snake essere misteriosa, nascondere sempre qualcosa e ahimè morde, morde perché insomma essendo un percorso di altissimo livello qualcuno un morso se lo prende e fa parte del gioco io come dico spesso fare questo tipo di sport non è come giocare fare un altro sport che può essere il golf insomma che ha meno rischi e quindi insomma fa parte del gioco e abbiamo già avuto dei rider che hanno provato qualcosa sul percorso qualche modifica che abbiamo fatto i feedback sono molto positivi e siamo molto contenti quindi avanti tutta sicuramente voto per la Black Snake essendo anch'io di carattere discesista e quello è a me il tratto che dà sempre un po' più da pensare è sempre The Hell ma penso anche ai rider perché è un passaggio stretto su sassi molto ripido e quindi quello un po' ogni volta che la faccio anch'io quando la provo e quando giro sul percorso è dove mi fermo un attimo a pensare e quello poi una cosa che ci tengo quest'anno a segnalare è la parte alta dove c'era la All Start ci sono tre bei salti e lì i signori si vola e ne vedremo delle belle e lì i signori si vola